Si intitola White Hot ed è un documentario che ci va a parlare proprio di Abercrombie e Fitch disponibile a partire dal 19 aprile 2022 su Netflix. Il 19 aprile vi ricordo che sarà martedì. Questo documentario va a ripercorrere la famosa storia di questo importante nonché famosissimo brand dalla rapida ascesa al crollo di tipo vertiginoso sotto il peso di una crisi finanziaria che ha portato a chiudere purtroppo molti negozi dislocati in tutto il mondo. Sicuramente chi era un giovanotto o una giovanotta si ricorderà le tante persone che si trovavano a fare la fila proprio al di fuori di questi negozi da Abercrombie e Fitch, un intenso profumo di tipo dolciastro che si sentiva per la via, la musica molto forte, le persone a petto nudo e tutti erano pronti addirittura per una foto ricordo da scattare. Ecco, gli docu film va a raccontare anche però quelli che sono di dati chiamiamoli più biechi, più misteriosi che si c'erano dietro proprio ad un successo di tipo planetario un marchio importante proprio come questo. Un marchio fondato da più di un secolo fa da David T. Abercrombie insieme a Fitch, es a Fitch, avvocato. Insomma, per farvela breve, diciamo che questo documentario, ripeto, parla proprio di questo marchio così importante, la storia dell'ascesa, ma al tempo stesso, nella caduta di un brand bello come questo all'interno di un documentario targato Netflix. Il video termina qua, aspettiamo il 19 aprile per vedere su Netflix, così ci rendiamo conto meglio. Iscrivetevi al canale nato italiano, commentate, un saluto caro e al prossimo video.